bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video diamo ok let's go con calma m13 sottolineatura maicon secondo mese fai la dabb 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 ti vestirai da principessa in live no 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 andiamo vaffanculo a te vaffanculo proprio a te vaffanculo a te se mi sparo una da davanti e se mi sparo una da di fianco io da caso che sto faccio prendo il volo per scappare com'è che faccio com'è che faccio andiamo ma santo dio ma santo no raga io non sono in grado no ragazzi non sono in grado non sono in grado raga non posso farlo non sono proprio in grado non ce la faccio qua non c'è strategia c'è ne ammazzi uno te ne killa uno ne ammazzi uno ti ammazza uno non si può ciao pino fuori oh my god oh my god what the ok 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 oh master ma che c***o stavo facendo quello let's go mi serve un cecchino da ferma novantasai bianco 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 novantapsi bianco salto mi batman saluto mi batman qualnda差不多 è un'amica ma lei la chiamavano mary pompis però erano altre cose 99 109 andiamo andiamo let's go let's go let's go salve garamatti nove mesi maiale di diamond orco giuda che piaccinata dimmi perché 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 come è possibile dimmi perché assolutamente sì tapas entra l'ingolo entra l'ingolo entra l'ingolo e sono quindici quindici ma sono troppi fai la dub fai la dub fai la dub fai la dub se ti piace la pami e la banana di sprint no hey 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 sprint no ho credo proprio sprint let's go 38 perché era un fanteria Mamma mia, mamma mia Dai, 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 dai Che sono le armi bianche, figa Scusa, tu questo non lo puoi fare Scusa, tu questo non lo può fare Non lo può fare Ma cosa? Mi devi ciucciare proprio il begone, figa Il begone proprio Ok, bravo, è giusto così È giusto così, è giusto così Scusa, quello non lo poteva fare Signori, sono a una eliminazione da vittoria 500 bits in palio Let's gooo, let's gooo Applaudiamo 500 bits in tiii Easy Eee Nice Eee Eee Grazie a tutti.